Allora, io sono Niccolò e sono della Scuola Media Cavalcanti, della seconda A, e lei appunto è la mia compagna. Buonasera, io sono Sara e sono la compagna di Classe Verde. Noi siamo pronti qui anche per conoscere magari quali potevano essere le abitudini, magari anche di una scrittice, di cosa poteva fare, dei suoi gusti e anche delle sue abitudini. E quindi abbiamo selezionato queste domande, che partirò io. Io la prima domanda avevo scritto che tipo di studente eri alle medie? Che se eri una delle studentesse modello o eri quella ancora più birbolla? Allora, tra le birbolle e le studentesse modello c'è un grande ventaglio di persone che vanno a scuola e pur non essendo né un picco né un baratro, cercano di affrontare la giornata, la mattinata e quindi poi le mattinate e l'anno scolastico come si può. Io appartenevo a queste. Sì, mi piaceva molto studiare, non lo nego, quindi c'erano delle materie in particolare in cui avevo anche degli ottimi risultati e mi impegnavo anche in quelle che non mi piacevano perché ho sempre considerato la scuola un'opportunità di crescita. Quindi diciamo andavo bene, poi magari in qualcosa meglio, in qualcosa meno bene. Però mi piaceva anche molto divertirmi, quindi non disdegnavo anche stare con i miei compagni di classe. Insomma, qualche birboneria l'ho combinata anche io. Ok. Io ho scritto, come ti senti quando leggi una recensione positiva o no? Beh, quando leggo una recensione positiva sono molto contenta, quando leggo una recensione meno positiva sono sempre un po' meno contenta. È molto semplice, però quando le critiche sono scritte con sincerità, senza pregiudizi o senza voglia di offendere, allora magari sto anche attenta a quello che viene recepito perché i libri quando smettono di essere soltanto dei file nel nostro computer o dei manoscritti nei nostri cassetti ed escono, si mettono le scarpe, se ne vanno in giro per il mondo, quindi diventano anche dei lettori. Allora io credo che le opinioni dei lettori, anche dei lettori più piccoli, quando sono ben argomentate, sono importanti per gli scrittori. Ok, allora ne dico la seconda mia e ho messo, hai dei figli? Hai mai parlato di loro in uno dei tuoi libri? Ho una figlia che si chiama Luna, ha otto mesi e quindi non ho ancora avuto il tempo di parlare di lei nei miei libri, però in un certo senso sì, perché l'ultimo libro che ho scritto, l'ho scritto quando lei è nata e quindi l'ho dedicato a lei, si intitola Il cortile delle sette fate ed è una piccola fiaba ambientata a Palermo ed è dedicata a Luna e ad Antonio, che è il papà di Luna, nonché il mio compagno. Io ho scritto, come ti sei sentito durante il lockdown? Hai scritto più libri? Quando ero chiusa in casa devo dire che da un lato mi sentivo un po' alienata come tutti, ma dall'altro ero anche felice perché per uno scrittore stare chiuso dentro casa a scrivere in isolamento è una condizione abbastanza naturale, anzi spesso non possiamo farlo perché magari siamo in giro a presentare i nostri libri o semplicemente a fare delle cose anche diverse dal dal lavoro. Invece essere costretti a stare chiusi in casa a scrivere era molto brutto per il contorno, per quello che stava accadendo, però da un punto di vista proprio del mio lavoro vero, della scrittura, devo dire che non è stato poi così terribile. Io invece ho scritto, quando scrivi cos'è l'oggetto, la persona che ti ispira? Allora, non ho risposta a un pezzo della domanda precedente, quindi lo recupero. Durante il lockdown hanno per esempio scritto un fumetto, si intitola Caravaggio e la ragazza e l'ho scritto insieme a un fumettista, io scrivevo naturalmente la sceneggiatura e lui la disegnava. Da cosa siamo stati ispirati in quel caso? Siamo stati ispirati dal fatto che essendo tutte e due di Messina, poiché Caravaggio, il pittore, è realmente esistito a trascorso dei mesi a Messina nel 1608 e sono stati poco raccontati e abbiamo deciso di raccontarli inventando una storia. Cioè non si sa molto di quello che accadde a Caravaggio in quei mesi, però ci sono alcune tracce del suo passaggio, per esempio due quadri e altre informazioni. Da queste informazioni siamo partiti per inventare una storia. Quello che mi ispira sempre è sempre un misto tra realtà e fantasia. Qualcosa di veramente accaduto e qualcosa che invece invento. Qual è il tuo genere letterale preferito? Mi piacciono i romanzi di solito che non appartengono a nessun genere, anche se mi piace molto quando nei romanzi c'è qualche tinta un po' gotica, intendo ci sono fantasmi o qualcosa di misterioso. Ecco, mi piace che ci sia sempre un po' di mistero. Anche se non ti piace il calcio comunque, qual è una squadra di tipi? Se dovessi fare qualche squadra, qual è una squadra di tipi? Questa è veramente una domanda impossibile perché non sono tifosa e quindi non saprei proprio scegliere. Fai un altro lavoro? No, il mio unico lavoro è fare la scrittrice e sono fortunata perché sono una delle non tante persone in Italia che possono guadagnarsi da vivere facendo questo lavoro. Spesso ci sono degli scrittori anche molto bravi che magari hanno più di un lavoro. A volte ce l'hanno perché semplicemente gli piace. Nel mio caso io vivo sia dei miei libri che magari ogni tanto anche dei miei articoli o di qualche laboratorio di scrittura, però tendenzialmente è proprio la scrittura a essere il mio mestiere principale. E invece se dovresti cambiare, diciamo, città dove andresti a vivere? Una città che mi piace molto è Bologna. Non ci ho mai vissuto, non direi che vorrei andarci, però mi piace molto ogni volta che ci vado e credo che ci vivrei bene. Qual è il tuo cibo preferito in generale? Le polpette in tutti i modi possibili, di carne, di pesce, di verdure, tutto quello che è polpettizzabile mi piace. A volte, sapete, se avanza qualcosa, non so, un po' di risotto oppure delle cose, delle verdure che non si sa bene come usare, e io so sempre come usarle perché faccio delle polpette. Invece la mia ultima è che ho un piatto che ami mangiare e la ricetta. Allora, mi piace molto fare la pasta al forno. È un piatto tipico della città dove sono nata, Messina, in generale tipico del sud. La ricetta è questa. Prendete un formato di, vi dico quella proprio della mia città e della mia famiglia, perché chiaramente, come sapete, nelle ricette tradizionali ogni famiglia poi ha la sua ricetta, ci sono delle differenze. Vi dico la mia. Prendete un formato di pasta specifico, ovvero le caserecce. È una pasta fatta così, più o meno, intrecciata, ha la forma di un dito e si intreccia così. Prendete le caserecce, le cuocete molto al dente, quindi 3-4 minuti, proprio devono essere quasi dure. Poi preparate un sugo con la passata di pomodoro o i pelati, meglio ancora se col pomodoro fresco, se è stagione, con un po' di basilico, dei piselli. A parte, friggette le melanzane tagliate in fettine molto sottili. Fate un uovo sodo e sminuzzate una provoletta tipo galbanino oppure una provoletta semplice e poi mettete un mucchietto di parmigiano. Al sugo unite i piselli, le melanzane fritte, il formaggio tipo provoletta e un po' di parmigiano. Unite tutto alla pasta, ungete una teglia, mettete questa pasta così com'è nella teglia, vi siete tenuti da parte delle melanzane, ricoprite la pasta di strisce di melanzane fritte, un po' di parmigiano, un po' di basilico in centro, in forno, 20 minuti ed è la cosa più buona del mondo. Caso amante o colazione? Guarda, cambio spesso, mi piacciono molto le colazioni salate, tipo sedermi, mangiare l'uovo fritto con il bacon, dei pancake, potrei stare anche un'ora a mangiare e quando sono in vacanza o in albergo lo faccio. Però siccome spesso la mattina vado molto di fretta, mi accontento di un caffè, un po' magari di biscotti o di pane spalmato, non lo so, con crema di arachidi o creme di nocciole, cose così. Allora, queste sono quelle domande potreste risposta. Praticamente la prima è, puoi salvare solo uno di questi due da un grosso incendio, che è solo il trucco di Pistoggetti, che distruggerà tutte le copie rimaste al mondo. Che cosa scegli, Pinocchio o il Piccolo Principe? Il Piccolo Principe. Un piatto, la vacanza preferita, mare, montagna, neve o città? Mare. Il tuo film preferito? The Big Fish di Tim Burton. C'è anche una serie tv che comunque mi piace molto? Si chiama Six Feet Under, è una serie tv di molti anni fa. Abbiamo finito. Grazie, valutato. Grazie mille, davvero. Grazie a tutti.